Le competizioni però non sono fatte solo di Formula 1 e chi è appassionato, chi ha anche una pur minima cultura di questo sport, sa che esistono anche le Formula 2 e 3, l'endurance, i rally e numerosi campionati monomarca promozionali che si disputano a livello nazionale. E' da queste gare che alcuni dei tanti giovani, fatto il loro apprendistato e il loro ciclo nelle specialità più impegnative, compiono il grande salto in Formula 1. Grazie a tutti.